Questa mattina la conferenza di Capigruppo ha raccolto le istanze di tanti balneatori, di tanti operatori turistici della costa abruzzese che hanno avuto una serie di danni sia ai beni pubblici sia ai beni privati durante le mareggiate dei giorni scorsi. A loro è stato proposto un emendamento per la concessione di un contributo straordinario di 750 mila euro per la stagione 2020 e 750 mila euro per la stagione 2021. Queste le risorse al momento disponibili, sia il Presidente Marsilio sia gli altri assessori hanno affermato e hanno detto ai sindaci dei comuni costieri offesi e ai tanti operatori balneari che la Regione Abruzzo non ha al momento altre risorse disponibili per contrastare questo fenomeno e per aiutare il settore turistico. Ha approvata questa normativa appena due minuti dopo, appena che tutti gli operatori sono usciti dall'aula, appena che tutti gli amministratori locali sono usciti dall'aula la maggioranza ci ha presentato questo emendamento, 488 mila euro a favore di un festival internazionale di cartoni animati. Questa è davvero un'offesa all'economia abruzzese, ai tanti operatori costieri che stanno faticando tantissimo per contrastare l'erosione. Questa è stata la risposta. I fondi per l'erosione non li abbiamo, i fondi per i cartoni animati li abbiamo e come?